acqua delle nevi tre giorni fa il sole e un vento sciroccale hanno fatto sciogliere la neve un disigelo traditore poiché l'inverno non è finito ad acqua delle nevi abbiamo qualcuna delle nostre nevicate nel marzo e anche nell'aprile talvolta la raccolta primaverile dello zucchero d'acero si rimanda per giorni e giorni perché la linfa gela durante il tragitto dagli alberi allo zuccherificio oggi la valle è nascosta dalla nebbia e le montagne sono scomparse non vedo più in là del mio cancello in questo periodo la vita di acqua delle nevi il paesino dove mi sono incarnato mi giunge direttamente senza passare attraverso lo sforzo della mente lo sforzo dell'analisi l'analisi a confronto delle percezioni superiori è un'illusione la mente può conoscere ciò che appare dell'incarnazione a cui è legata ma non contiene le esperienze delle vite precedenti le contiene la coscienza quando mio padre fece la recensione della nostra casa colonica includendo un gran tratto di prato e il gruppo di betulle bianche mia madre lo criticò lei era di vedute e ristrette moralmente e materialmente esigeva ricinti e fossati per difendersi dai ladri che poi la raggiunsero lo stesso perché ognuno attrae ciò che teme tu non puoi andare a convivere con quella ragazza mi disse mia madre quando le feci conoscere evelina frey sebbene aggiunse i frey sono un buon nome ad acqua delle nevi in realtà mia madre non voleva che me ne andassi da casa riflettei se fosse il caso di dirle che evelina era stata presa da un orfanotrofio ed aggiunta ai figli di sangue dei frey ma non le dissi niente mia madre l'avrebbe odiata di più vivevo quel periodo della mia vita come in un film senza esserne coinvolto provavo le emozioni di evelina di mia madre di mio padre fino a quando trapassò ma non ne venivo toccato perché non erano le mie però adesso a metà della mia vita a furia di ciò che ho vissuto e di quanto zucchero d'acero ho prodotto ho scoperto perché perché non avevo ancora sostituito la coscienza della religione con la religione della coscienza e grazie a tutti